Lutto per Mika che ha perso la madre dopo una lunga malattia. La donna era malata di un tumore al cervello come il cantante giudice di X Factor aveva spiegato più volte nelle recenti interviste. La sua perdita invece è passata sotto silenzio per un certo periodo. Mika ha scelto di parlarne soltanto in un'intervista uscita in questi giorni sul quotidiano Le Parisienne. La mamma è morta a dicembre dopo le registrazioni di un live di Mika al Royal Opera di Versailles che è stato trasmesso sulla televisione francese il 5 febbraio.